Il grafico è basato su 8.200 casi diagnosticati tra il 1 e il 28 aprile. Praticamente il 48% dei casi, 6%, è stato riscontrato, si è diffuso nelle RSA, nelle case di riposo e nelle comunità dei disabili. Il 22%, che è la seconda percentuale più elevata, in ambito familiare. Solo il 9,9% del totale si è diffuso in ambiente ospedaliero e nel lavoro il 3,7% dei casi. Questo è significativo per tutti, perché il 3,3% nel lavoro vuol dire che è bassissimo. È molto interessante. Nella RSA, in famiglia, in ospedale. Questo grafico è molto chiaro. Elisabetta è brava e ce l'hai fatto vedere. Vediamo i messaggi, perché ne arrivano moltissimi. Vi ripeto, cerchiamo di mandare tutti in pezzo. Il petrolio è bassissimo. Perché non cale il costo del carburante e le bollette? È una cosa brutta che il petrolio sia calato tantissimo. Questo è per l'economia mondiale. L'altra cosa è che non cala semplicemente perché in Italia abbiamo più accise, più costi di tasse che costo della benzina, ma già tuttora. Quindi più di un euro, credo più o meno, non vorrei sbagliare, però tanti soldi sono ovviamente di tasse e delle accise ancora, credo, della guerra, che ne so. Dovevano togliere tutti. Quelli che sono andati al governo dovevano togliere tutti, ma ci sono rimaste. Buonasera, mi scusi il disturbo, ma io vorrei sapere se il mio marito va a controllare la seconda casa, che sono la moglie, posso andare assieme oppure no? Grazie, può andare assieme perché nel decreto di Zai, a sé, nella nostra regione, i congiunti, i familiari possono andare anche nella stessa macchina ovviamente e quindi può andare tranquillamente. Andiamo pure avanti. È chiaro? No, aspetta un momento, però se la manutenzione, adesso non vorrei sbagliare, per la manutenzione può andare, non per fare le vacanze, quindi credo che sia... non vorrei dire una stupidaggine, chiedo scusa al telespettatore perché faccio confusione anch'io. So che uno può andare per manutenzione. La seconda mi sembra di sì, ma non ne rispondo in maniera chiara, quindi se qualcuno di voi mi è di aiuto, Elisabetta o Dennis, casomai rispondiamo alla nostra telespettatrice perché non vorrei fare confusione anch'io. Andiamo nel prossimo messaggio. Siamo a titolare, il centro estetico, il centro a Padova. Dopo tutti questi giorni di cosura, senza i cassi, non si può ripartire indebitandoci ulteriormente. E Corriva, già arrivata, con scadenza di infine giugno, è una vergogna. Ha detto prima il tuo segretario che la può spostare, viene spostata e quindi, almeno da questo punto di vista, non deve pagare l'IVA a fine giugno. E' avanti. Questa sono sicuro. In Germania basta portare i cassi del 2019-2020, in poche ore ti arriva il contributo a fondo perduto. Perché qui è tutto così? Ficcio la domanda che ci facciamo, ci facciamo, ci facciamo, perché l'Italia è in difficoltà, il debito pubblico è altissimo, non abbiamo soldi, non abbiamo credibilità in Europa. Ci dicono, ci raccontano tante storie, ma in Germania ovviamente non è così. Abbiamo ancora collegato Ferretti, che lo saluto perché abbiamo problemi di collegamento. Ve lo fate vedere, vediamo se è ancora collegato, lo ringrazio, della sua disponibilità ovviamente. C'è Ferretti? Ci sono. Ecco allora, la ringrazio perché mi hanno detto dalla regia che il collegamento con lei salta e va. Ha sentito cosa ha detto il sottosegretario? Che se un funzionario rischio rischia il penale. Quello che le avevo detto all'inizio. Guardi, è quello che dicevamo prima, il problema legale c'è, lo dicevamo prima, sono d'accordo. Era una considerazione. Non è sicuramente, ma è dobbiamo prima. Era una considerazione. Ho il collegamento che va male, Ferretti devo davvero salutarla. La ringrazio, ci sentiremo ovviamente nelle prossime puntate. Grazie ad Andrea Ferretti. Allora, oggi sia per Patrizio Bertine e per Antonio Cattogono, siamo andati in centro a Padova e il nostro collega Maurizio Colomo è andato a intervistare come si sentono, con che spirito, sotto un profilo non lavorativo, sotto un profilo morale. Andiamo a sentire cosa dicono i padovani. Finalmente la fase 2 è ufficialmente incominciata, ma un conto è quello che dicono le leggi, quello che stabilisce il DPCM, un conto è quello che percepiamo con il nostro umore, quello che sentiamo vibrare nell'aria. Così, chiedendo ai padovani le loro impressioni su questa seconda fase dell'emergenza coronavirus, le risposte sono state differenti. Non è che cambi molto, però si ha la sensazione di un maggior respiro, diciamo, anche se la maschera, dicevamo adesso, ci impedisce un bel po' di respirare come avremmo bisogno di fare. Sicuramente un pochino meglio rispetto a quando è scoppiato tutto, però poco fiduciosa. Molto più libera, sicuramente. Finalmente posso riabbiacciare il mio fidanzato, per il resto sono serena. La preoccupazione è che dopo ritorneremo ai sei mesi che abbiamo già, o tre mesi che abbiamo già fatto in lockdown, quindi si spera che almeno io mi sento di avere speranza nell'altro e sperare che tutti si tengono maschere e guanti, se le tengono su, non se le mettono sotto il mento. Sì, anche psicologicamente credo che la gente sia un po' alleggerita, però certo resta fondamentale il fatto che bisogna muoversi solo quando c'è l'assoluta necessità di farlo. Ma in realtà stavo bene anche prima, nel senso ho cercato sempre di mantenere l'umore abbastanza alto per non cadere in una depressione o comunque angoscia data da questa situazione. Speranzosa, fiduciosa, ma ho anche paura che qualcuno la prenda troppo alla leggera. Abbiamo cercato di scegliere di essere delle persone non che si abbattevano, ma che comunque anche in casa continuavano a fare magari attività fisica, preparare qualcosa eccetera. Di sicuro per lui soprattutto, che è piccolino, il fatto di poter rivedere delle persone è molto piacevole. Mi è mancato molto il tango, perché a me piace molto ballare il tango e quello mi è mancato molto e mi mancherà ancora di più. Oltre il lavoro, perché quello lì mi dà da vivere, sono una parrucchiera, figurati, ti lascio immaginare. L'italiano è un po' davvero in questo caso, è positivo, tutto sommato, insomma, speranzoso, pochi che hanno paura. Insomma, è un bel segnale che questo, Bertini, dai, sono delle difficoltà. Perché poi gli italiani sono stati bravi, perché nei tempi ovviamente che bisognava rimanere a casa, e in effetti è vero, c'era poca gente in giro, tranne qualche caso sporadico, poca gente, poche macchine, insomma, si vedeva che l'italiano voleva uscire da questa situazione che non era sicuramente tra le migliori, o no, Santo Cono? Beh, assolutamente, infatti, la cosa che emerge qui ancora una volta è che nel momento in cui alle persone vengono date delle certezze, e la certezza era il 4 di maggio, potremmo tornare fuori, e hanno potuto andare fuori di casa, già automaticamente i pensieri sono diventati ottimistici. Sono diventati migliori, è vero, è vero. Dennis, allora vogliamo spiegare per le seconde case, perché non vorrei aver dato delle risposte inesatte, allora chiariamo anche questo. Dennis. Sì, allora, specifichiamo, leggendo esattamente quello che è riportato nell'ordinanza regionale di oggi, perché sapete che oggi il governatore Zaia ha firmato una nuova ordinanza, revocando quella che era stata presentata poi nel fine settimana, nella giornata di ieri, questo perché ha dovuto aggiungere delle voci e quindi ha deciso di firmare una nuova ordinanza. Al punto 6 c'è quello che riguarda il cosiddetto spostamento verso le seconde case e altri beni immobili. È consentito, si legge nell'ordinanza, presso la seconda casa o presso camper, roulotte, imbarcazioni, veivoli, veicoli d'epoca o da competizione in proprietà o locazione nel territorio regionale, ai fini dello svolgimento di attività di manutenzione, quindi solo la manutenzione da parte del proprietario o del locatario, quindi anche uno, per esempio, che ha una casa stagionale in affitto, fatta salva la possibilità di lavori per mezzo di operatori professionali. Lo spostamento può essere effettuato dal proprietario o locatore con i conviventi, quindi con tutte le persone che risiedono nello stesso indirizzo, nella stessa casa. Dennis, grazie, avevo ricordato bene, quindi non ho detto una stupidaggia. La conclusione di questa prima parte, andiamo a vedere anche il cibo d'asporto, come sta andando. Vediamo questo servizio. Si riparte, ma non tutti ingranano la prima. Ormai è noto, la fase 2 non è un ritorno completo alla normalità. A fronte delle centinaia di migliaia di cittadini che possono riprendere a lavorare, c'è chi ancora vive nell'attesa. Sono soprattutto ristoratori e baristi. Per loro sono garantite alcune attività, ma nella complessa sovrapposizione di ordinanze regionali e decreti governativi, il timore è quello di confondersi, sbagliare a comprendere la legge e quindi di incorrere nella sanzione. Fino a ieri servivamo qualche caffè, cappuccino, con la gente che ci chiedeva anche per strada. Tipo il 25 di aprile che abbiamo aperto, la gente solo per bere un caffè e un cappuccino era come avessi dato la vita. Sei come in un limbo nel nostro lavoro, nel senso non sai se è giusto o non giusto e alla fine diciamo che non vale la pena tenere aperto. Di sicuro al momento la situazione non è limpida. Nell'ambito del cibo da asporto, ad esempio, il decreto governativo non dispone che debba essere ritirato previa prenotazione, ma l'ordinanza varata dalla regione nelle ultime ore non mette nero su bianco questo particolare, gettando nella confusione migliaia di esercenti. Una restrizione che il presidente del Veneto, Luca Zaia, ha però sostanzialmente smentito. Laddove il DPCM non specifica regole particolari, garantendo più libertà, va seguito. Il servizio da asporto può quindi essere svolto senza una prenotazione telematica. Bene, avete visto, quindi abbiamo chiarito anche il problema della sport, augurandosi che anche questo termini rapidamente, perché ci manca poi la cena, l'essere conviviale. Io poi sono molto abituato a partecipare a partire che qualcuno mi evita a mangiare i funghi, che li pesca diventamente in montagna, li pesca, non li prende, capito? E quindi spero sempre che ritorni a quei bei periodi lì. Allora abbiamo collegato Andrea Sales, che è psicologo, lo ringraziamo, dovremmo vederlo. Poi so che piacciono molto anche al professor Pilati i funghi. Abbiamo collegato, eccolo qui. Grazie come sempre, Sales. Allora, ci siamo sentiti tempo fa, oggi siamo ripartiti. Come siamo ripartiti psicologicamente secondo lei? Beh, diciamo che la maggior parte delle persone è più che ripartita, è partita, nel senso che la situazione è psicologico, molti studi della possibilità di una fobia sociale, cioè di una difficoltà a rapportarsi concretamente con queste nuove relazioni, nel senso che la fiducia che andiamo a richiedere adesso è una fiducia diversa da quella che si chiedeva prima, perché è una fiducia che in questo momento deve basarsi su una forma di rispetto, nel senso che il nemico, tra virgolette, è nell'aria o comunque è ovunque e psicologicamente questa cosa si fa più fatica a gestire. Pensiamo solo semplicemente, tanto per fare un esempio, nelle grandi città soprattutto, ma anche nelle città più piccole, il mantenimento della distanza significa dover rispettare chi è più attento e chi è meno attento, questo non è semplice. E quindi le persone che per un periodo si sono lamentate dell'essere costrette a stare in casa, nell'ultimo momento si erano quasi adattate, adesso tornare fuori fa paura a molti. Qualcuno riesce a farlo serenamente anche perché ha l'esigenza del lavoro, qualcun altro invece fa molta fatica, proprio psicologicamente si fa fatica, c'è paura. Salles, chi di più, le donne o gli uomini? E perché? Non ho capito. Chi di più, chi ha più paura, l'uomo o la donna? Allora, ha più paura la persona vulnerabile, ha più paura la persona insicura e ha più paura la persona attenta che vede nell'altro poca attenzione. Non è una questione di identità di genere, non è che la donna o l'uomo possano avere più paura, perché la paura non è legata ovviamente all'identità, al sesso, è legata più che altro alla personalità. Ci sono delle persone che sono più attente e persone che sono meno attente, e quindi le persone meno attente possono avere meno paura perché ci pensano di meno, ci sono anche persone molto forti che possono avere più paura proprio perché sanno che ci sono persone più superficiali e quindi il pericolo è ovunque. Prima si diceva in studio che avendo avuto la data, quando abbiamo avuto la data siamo stati più rispettosi, è corretto questo proprio perché c'è un termine. Adesso la questione è che questo termine non è visibile, non è un termine di tempo, ma è un termine di arrivo di questo vaccino, ma fino a quel momento dovremmo stare molto attenti e questo è davvero la responsabilità dei cittadini. Senta, al nord, più o meno dico al nord perché è stato quello più colpito, le persone hanno iniziato abbastanza senza grosse difficoltà a rispettare i protocolli e le regole, cioè a rispettare le distanze, a rispettare la mascherina, a rispettare le cose basilari, i protocolli basilari. E questo influirà nei prossimi anni? Sì e per quanto, secondo lei, o sarà davvero un cambio di abitudini da parte di un certo tipo di popolazione? Sì, è un cambio di abitudini perché noi, come dicevo prima, non è che adesso ripartiamo o ci rimettiamo in moto, dobbiamo pensare che è un nuovo modo di rapportarci perché per un po', potrebbe essere un anno, anche un anno e mezzo, noi dovremmo costruire nuove modalità comunicative, pensate solo al fatto che non vedremo la bocca, la bocca non la vediamo, non vediamo il naso e quindi sono parti molto espressive del viso, dovremmo fidarci degli occhi, dovremmo fidarci della parola, dovremmo iniziare a pensare di costruire una società in cui la parola inizia a contare di più, cosa che magari ultimamente aveva perso un po' di valore. Il cambiamento sarà anche nel rispetto delle esigenze individuali perché mi immagino solo chi deve salire in un palazzo con 10 piani di ascensore o anche solo 5 piani di ascensore deve aspettare il tempo che salga un altro, quindi lì sarà veramente una negoziazione e soprattutto per i bimbi e per i ragazzi dipende da cosa viene trasmesso dai genitori perché molto spesso i genitori più impauriti trasmettono le paure ai figli, stai attento a non fare questo, a non fare quell'altro, mentre ci sono quelli che hanno bisogno solo di essere allertati sulle accortezze, gli accorgimenti da avere. No, no, prego, termini pure, chiedo scusa, termini pure. Stavo dicendo che poi le informazioni stanno diventando sempre più precise e mirate, la cosa più idonea e più indicata è sempre quella ovviamente di riuscire a seguire le indicazioni che ci vengono date. Senta, una considerazione se poi lei può in questa considerazione tranne le conclusioni. Allora, all'inizio di questa storia il governatore della campagna, non voglio sbagliare, ha detto io non voglio né i Lombardi né i Veneti che vengano nella mia regione, nelle mie isole e in quel momento per la prima volta mi sono sentito un indesiderato e la cosa mi ha dato anche un po' fastidio personalmente. Oggi aggiungiamo che vediamo, come ha detto lei, le mascherine alle persone e quanti di noi hanno detto mamma mia quelli di altri continenti che vengono con la maschera non è bella vogliamo vederli tutti in viso. Non è che qualcuno dall'alto ha detto beh cambiamo le regole, facciamo capire a tutti come si funziona. Qualcuno dall'alto a chi fa riferimento? Nel senso ovviamente ho detto dall'alto vuol dire il virus indubbiamente qualcuno ha detto hai visto cosa vuol dire essere indesiderato tu che indesideravi gli altri hai visto cosa vuol dire portare la maschera che tu denigravi le altre altre religioni, altre culture ecco adesso tocca anche a noi e allora una considerazione da parte sua se ve la vuole dare, se c'è una considerazione Certo, certo, certo adesso ho capito, adesso ho capito la sua domanda e trovo anche molto interessante questa riflessione nel senso che più di qualche pensatore di qualche filosofo anche oggi ha analizzato la questione portando la possibilità di vedere le cose da prospettive diverse ma questo ragionamento che si fa da tanti anni in fin dei conti noi siamo andati anche in America nei primi del Novecento essendo noi indesiderati a quel tempo oggi c'è un'accoglienza diversa e quindi qualcuno la legge anche in questo modo diciamo che l'atteggiamento più intelligente sarebbe riuscire ad avere delle informazioni chiare e precise per poter aiutare davvero le persone che siano africani piuttosto che contagiati e tutto bisognerebbe riuscire a creare delle situazioni sociali dove l'accoglienza non è un atto raro ma diventa un atto di intelligenza di intelligenza, di generosità ma anche di opportunismo perché molto spesso riuscire a gestire dei movimenti dei movimenti così numerosi di spostamento di persone e tutto deve essere valorizzato piuttosto che scansionato se no diventa un problema e noi quando scansiamo le cose le scansioniamo in un certo modo non riusciamo più poi a gestire i flussi per esempio migratori e allora giriamo la situazione e ci diciamo ma adesso questa cosa come la viviamo noi? sicuramente lei ha detto bene ci siamo sentiti rifiutati e qualcuno facendo una morale poi è opinabile questo facendo una morale dice eh sì così provi anche tu quello che provano gli altri io non credo ovviamente che sia una cosa come dire coordinata, organizzata sicuramente le persone intelligenti quelle empatiche possono aver provato effettivamente questa sensazione di rifiuto questo può farci riflettere grazie Sales, grazie come sempre molto gentile grazie si è mai sentito? lei è un po' rifiutato quando il presidente della... non mi sono mai posto questa domanda non mi sono mai posto questa domanda però ragionandoci sopra comunque è giusta la riflessione è giusta che... io mi sono un po' risentito così ho detto mamma mia adesso capisco cosa vuol dire per tanti i nostri genitori che andavano all'estero che andavano in Australia e in Svizzera che erano un po' visti male come noi abbiamo visto male tanti altri che andavano in Italia e mi sono sentito uno di loro per un momento così ho pensiero nel mio cervello insomma io ho preso magari da tutto quello che è questa pandemia non sono arrivato a fare una riflessione profonda così però è vera è una cosa che ti fa pensare insomma ti fa riflettere è vero che ci sono delle situazioni in cui certi comportamenti dicono guarda capisco che magari altri che hanno sono bendati o hanno altre culture altre religioni noi ci siamo li abbiamo sempre magari visti su un aspetto un po' critico ecco diciamo così adesso che siamo anche noi io quando sono entrato col professor Pilati che era della mascherina qua al momento non l'ho riconosciuto secondo me è capitato con Santo Cono quando è entrato al momento poi sapendo che era ospite però al momento l'ho visto nella scagliata per entrare era coperto ovviamente dalla mascherina per un attimo non l'ho riconosciuto poi ovviamente si riconosce però succede anche questo insomma sì sì indubbiamente secondo lei Santo Cono guarda io sono siciliano quindi noi siamo abituati ai tempi che fu anche quelli del sud anche se devo dire nella realtà che qui nel Veneto come vuol dire il resto del paese sono sempre stato accettato e anche con grandissima no ma il pensiero di esserlo italiano adesso nei confronti questo pensiero certo c'è questo pensiero c'è ma io credo che sia anche questo legato al momento che stiamo vivendo a questo punto siamo costretti tutti a reagire in un modo in cui anche perché non siamo preparati a questo tipo di reazione per cui ognuno reagisce secondo lei Pilati si è sentito no in questa fase qui no assolutamente no in generale in Italia no cioè io in qualsiasi posto sia andato a nord dal Trentino Alto Adese alla Sicilia mi sono sempre trovato strabene non ho mai avuto problemi o avuto queste sensazioni questa sensazione l'ho avuta quando sono andato in Inghilterra 30 anni fa dove mi ricordo benissimo che una sera a una cena dei chirurghi del Royal College praticamente ci hanno diviso fra i chirurghi inglesi e gli altri e gli altri praticamente erano stati messi e li si è sentito un attimino eh sì beh le faccio un esempio dottor Pilati un mio carissimo amico è mancato il papà proprio l'altro giorno il papà è di Napoli lui vive a Sesto San Giovanni nella zona milanese e ovviamente è andato al funerale l'ha detto a Napoli si baciano si abbracciano come nulla fosse successo quando ha detto lui tu da dove vieni eh da Sesto San Giovanni le zone tutti via tutti hai capito lo tenevano come un appestato proprio lì loro tutti baci e abbracci lui veniva dalla Lombardia l'ha trattato come un appestato proprio nel vero senso è la parola e dunque ecco il motivo per cui ho fatto questa domanda a voi e anche ovviamente allo psicologico beh però sulle mascherine avrei qualcosa da dire poi dopo la pubblicità dopo la pubblicità o vuole dirla subito è breve o vuole dirla subito nel senso che per quanto riguarda altre religioni sono loro che vogliono avere le mascherine e vogliono tenersi le mascherine invece noi siamo costritti a tenere le mascherine è un po' diversa la cosa in che senso scusi non ho capito alcune religioni praticamente le persone ah religione ho capito ho capito ho capito certo certo assolutamente d'accordo la mia era una domanda e per cui in quel momento quando il governatore due mesi fa un mese e mezzo fa ha detto non voglio i Veneti i Lombardi che poi il giorno dopo è stata ovviamente cancellata subito sono rimasto un po' al loro pensiero che tramando a chi mi viene a trovare ospita tra poco ci sono qualche famo